Buonasera a tutti, grazie di essere qui, ringrazio tutti i relatori e anche tutti i presenti per l'entusiasmo e l'affetto che hanno dimostrato per Vanni. Tutti noi abbiamo delle emozioni quando sentiamo il nome di Vanni, di Vanni Pasca. Quindi siamo felici di essere riusciti a mettere in atto questa nostra volontà che si è manifestata quasi da subito di celebrarlo e poi è sorta appunto l'idea in Adi di utilizzare questo format e il design da leggere che è un format che proprio lui aveva proposto per appunto parlare di tutte le pubblicazioni intorno al design e approfondirle in eventi ed è questo un format che tuttora è vivo e sta funzionando. Vanni, come sapete tutti, forse qualche studente non lo sa, ha avuto una carriera molto importante, è stato docente universitario, ha insegnato in diverse città. Mi raccontava poco fa Furlanis che proprio Firenze è stata la prima città che lo ha accolto come docente a Lisia, poi ha insegnato a Palermo, a Milano, a Catania, a Napoli e ha avuto una grandissima produzione di pubblicazioni, testi su riviste, è stato curatore di mostre, fondatore, e questo ce ne parlerà meglio Enrico Morteo, dell'Associazione degli Storici del Design, membro attivo e socio Adi sia da un punto di vista istituzionale che da un punto di vista delle proposte e anche compasso d'oro nel 2020, compasso d'oro alla carriera, è stato un momento di grande emozione quando appunto gli è stato conferito questo compasso d'oro meritatissimo peraltro. Con Vanni abbiamo condiviso insieme a molte altre persone che sono presenti qui stasera l'avventura fiorentina delle lezioni di design che sono state volute da Self Habitat, soprattutto da Pierluigi Bemporad che è stato il provocatore e Vanni era l'attore principale e noi come Adi abbiamo sostenuto fin da subito questa iniziativa che è stata seguitissima appunto da alcuni fedelissimi che sono qui presenti stasera ed è stata continuata nel tempo, appunto ricordo anche che le ultime sue preoccupazioni erano state quelle della successiva edizione delle lezioni di design che ha continuato con i temi anche che lui aveva proposto, quelli della sostenibilità. Con Vanni abbiamo avuto modo anche di parlare dei modi con cui si affrontava un'idea e un tema per poi approfondirlo e trasformarlo in scrittura o in evento e sono state delle conversazioni veramente appassionanti. Vanni ha attraversato la storia del design e noi abbiamo una serie di immagini che poi ecco che vedete alle mie spalle queste immagini sono state realizzate nel tempo da Fabio Gambina che è un fotografo che tra l'altro si è laureato con Vanni Pasca e che danno appunto la dimensione dei suoi rapporti così anche amichevoli e intimi con i personaggi appunto che hanno fatto la storia del design. Rapidamente vorrei parlare del manuale del design di Vanni che è stato un'opera direi quasi necessaria perché ormai il design aveva una produzione e un'articolazione così importante, un sistema così, creato un sistema molto eterogeneo e vario che si è soprattutto specializzato negli ultimi tempi e Vanni e Domitila Dardi hanno raccolto questa sfida e hanno realizzato questo manuale del design che tutti conosciamo e cercando di mettere a punto quelli che potevano essere degli elementi fondamentali per affrontare questa materia e quindi definire l'inizio della storia del design perché c'è chi la fa iniziare dai primordi dell'umanità dalla rivoluzione industriale e bene loro dopo grandi dibattiti mi diceva sia Vanni sia Domitila insomma hanno trovato opportuno farlo partire praticamente dalla grande esposizione universale e le avventure appunto di Morris e soprattutto far combaciare questo evento con l'avvento della professione del designer e la istituzionalizzazione di questa figura altro tema altrettanto complicato era la complessità appunto dell'opera del soggetto e quindi è stato deciso di avere una narrazione un po' di tipo lineare ecco qui ci sono delle immagini dell'interno del manuale e che veniva interrotta oppure meglio arricchita da un andamento Vanni diceva verticale di inserimenti di approfondimenti che appunto esploravano in maniera più precisa un determinato movimento un determinato tema con delle didascalie che sono quasi più vicine alle didascalie di una mostra perché non hanno solo non riportano appunto delle fonti ma riportano anche delle breve descrizioni mentre poi appunto i contenuti spaziano dal design anche comunque alla moda, alla tecnologia, al costume come è importante che sia e arrivano a quel tema che aveva e anche diciamo a quella dicitura che aveva coniato Vanni di design esteso e che appunto rappresentava un po' tutte le varie declinazioni che oggi conosciamo del design che poi lo riconducono probabilmente a quello che diceva appunto in un altro suo scritto che cos'è il design oggi hanno frammentano appunto l'attività del design e forse si riconducono solo al termine originale che è progetto e la fine diciamo anche il decidere come finire il manuale è stato quello di la scelta è stata quella di parlare più che delle personalità dei movimenti degli inizi appunto degli anni 2000 con appunto dove venivano riportati tutti questi queste diverse declinazioni appunto dal social design all'ecodesign tematiche collegate alle tecnologie e allora con questo Vanni ci aiuta a districarci meglio in quello che è questo la dimensione questo fenomeno complesso del design e ci aiuteranno tutti i vari le varie persone che hanno deciso di essere qui questa sera e di aiutarci a rappresentare il Vanni e il rapporto anche con loro stesse e presento con piacere Enrico Morteo che è collega di Vanni che ci racconterà una sua personalissima avventura con Vanni grazie buonasera grazie perla e ringrazio tutti voi per l'invito non mi sembra affatto giusto essere il primo a parlare soprattutto qui dove Vanni è stato tante volte con tanti di voi mi sembra di usurpare il posto di qualcun altro ma se mi viene chiesto tant'è facciamolo è vero io conosco Vanni da molti anni dire che lo conobbi è un po' esagiato lo incontrai la prima volta io ero ancora studente lui era in realtà già un affermato critico quando venne a Torino dove io studiavo in un celebre negozio a presentare la collezione l'ultima collezione disegnata da Antonia Stori lui aveva un rapporto molto stretto sia con Antonia Stori che con l'Adriade in generale la collezione si chiamava Aleph era una serie di era un sistema come tanti di quelli che l'Adriade produceva ed era il primo sistema non baousiano se mi passate la semplificazione Antonia Stori aveva disegnato un sistema non semplicemente bianco con delle colonnine nere con delle fasce a discurre come era l'Oikos per chi se lo ricordasse ma aveva disegnato un sistema che aveva una superficie materica aveva delle cerniere leggermente gotiche aveva dei timpani insomma era un sistema che apriva a un mondo nuovo a un mondo diverso io ero in platea ovviamente e naturalmente mi scagliai contro questo sistema che non era per niente classico nessuno è più conservatore di uno studente che difende quello che gli hanno appena insegnato a me avevano appena insegnato razionalismo ero infervoratissimo di tutte queste cose mi sembravano dei tradimenti c'era dello stile c'era quasi della decorazione insomma parole che certamente ai primi anni 80 non erano non erano tanto tanto ben viste credo che sia giusto per capire bene Vanni però non soltanto attraversarne la biobibliografia professore universitario critico scrive libri perché tutto questo Vanni lo faceva intanto con una disinvoltura straordinaria ma non lo faceva partendo dall'accademia lui non è partito dall'università a scrivere libri e a fare lezioni lui è partito in maniera molto militante altro termine di altri anni di altre epoche di altri tempi cercando di capire sul campo che cosa fosse questa magmatica materia che ancora chiamiamo design e che tanti cambiamenti ha già subito che si è complicata che è cambiata negli anni lo ha fatto lavorando con le aziende ecco proprio quella cosa che io un po' gli rimproveravo l'essere l'usignuolo dell'imperatore il titolo di un libro vecchissimo che spero nessuno si ricordi e solo io così vecchio mi posso ricordare cioè di queste figure che si accompagnano ai padroni e gli cantano delle belle canzoni intorno sempre studente, infervorato pensavo che la rivoluzione fosse questione di ora insomma avevo problemi di guardaroba per la rivoluzione ma era lì stava arrivando mi sembrava che lui si fosse in qualche modo adesso la parola venduto un eccesso insomma che si fosse concesso troppe licenziose vicinanze con i padroni in realtà ci ho messo anni ci ho messo tempo a capire che aveva ragione lui che il design invece bisogna andarlo a capire lì divenne redattore di una rivista cominciai a lavorare certo sempre con un po' di distacco cercavo di non farmi coinvolgere con i pubblici redazionali con questo mondo di scambio delle merci ma invece continuare a pensare il design come un fatto più o meno culturale ma in realtà cominciavo poco a poco a capire che aveva ragione lui quando quando si poneva in questo modo in questa con questa apertura con questa disinvoltura fuori fuori dagli schemi che erano anche i suoi schemi mentali e ci sono veramente voluti tanti anni di frequentazione ci siamo visti a cento presentazioni a mille conferenze a duecentocinquanta conferenze stampa insomma in tutto questo bel mondo insomma ai convegni alle conferenze alle elezioni all'Adi dove per un po' di anni eravamo coinvolti in quelle commissioni che selezionavano il mare magnum della produzione lui più da un lato editoriale tant'è che nacque questo forma di cui oggi ancora si beneficia io stavo più sull'industrial design ognuno stava nel suo ma ci vedevamo spesso e volentieri più divenne il curatore della collezione storica del compasso d'oro ci convedevamo più spesso finché io non ho scritto un libro che si chiama Atlante del design ma poco conta come si chiami che in realtà pur in una formula mascherata era una storia del design il libro era un libro fatto a schede questo era il format editoriale che mi detta l'editore quindi doppie pagine dietro a doppie pagine ogni doppio un argomento e via andare però costruendo delle sequenze di un certo genere facendo come dei gruppi delle famiglie si era riuscito in qualche modo abbiamo forzato i limiti dello schema facendone una storia lo avevo regalato a Vanni e credo che dopo quella lettura in qualche modo la nostra relazione sia cresciuta stiamo parlando dei bei 2000 anni 2000 insomma non è che stiamo parlando di tanti anni fa quindi quella che era una frequentazione leggera tra virgolette improvvisamente è diventata una frequentazione più profonda abbiamo cominciato a vederci per parlare invece che per fare quei sorrisi di circostanza che si fanno ah che bella mostra oh ma che bell'intervento hai detto delle cose molto interessanti cioè questi balletti insomma più o meno sinceri per quanto mi riguarda tendenzialmente sinceri ma comunque sempre un po' di superficie siamo ancora a 11 secondi ah no c'è un problema di tempo forse non lo so cerco di non sforare cerco di andare in fretta anche perché il rischio in questi casi è parlare molto più di sé che non di Vanni Pasca è vero che parlo del Vanni Pasca che ho conosciuto io quindi ve lo racconto delle verissime miei occhi però non vorrei esagerare in questo autobiografismo tant'è che in questo frequentarsi di più parlare di più raccontarsi più cose mi cominciò a sollecitare il tema di una associazione che riunisse gli storici italiani del design che era un suo pallino di vecchia data non era un'idea che gli era venuta nel 2000 qualche anno che non mi ricordo più quale fosse noi abbiamo cominciato a parlare seriamente nel 2009 me lo sono appuntato perché poi in quell'anno o quell'autunno credo che l'associazione sia nata e ci furono una serie di mesi abbastanza febbrili di incontri e di e di scambi e ci sono alcune cose ma tanto mi ero chiesto perché avesse chiesto a me che non sono come dire uno storico laureato io non ho cattedra non ce l'ho più ho insegnato qualche anno non insegno c'è una come dire una gran quantità tanto più a Milano di grandissimi professori accademici importanti e mi sono dato la risposta che forse proprio non essere all'interno di una struttura che sia un'istituzione un'ente o una consorteria dipende come la si vuole intendere mi rendeva più agile nel confronto con lui e nel rapporto e forse questa è la ragione per cui abbiamo veramente cominciato a parlarne nel concreto e la cosa più bella è che Vanni aveva tantissime qualità e non le sto a raccontare a voi lo conoscevate la sua umanità la sua simpatia la capacità di essere intelligente non solo quando diceva delle cose intelligenti ma anche quando diceva delle cose stupide quando scherzava quando era come dire quando non ci pensava in qualche modo era intelligente c'è quella dote lì che uno vede le cose le dice le racconta con particolare brillantezza ma non aveva il dono dell'essere un grande organizzatore non era il suo panno non era un logistico lui non è che si occupasse dei trasporti aveva delle idee sapeva cosa fare ma aveva talmente tanta passione e interesse per raggiungere gli obiettivi che si dava che era disposto a imparare come si facesse e questo si faceva o leggendo relazioni infinite manuali andando a parlare con i notai delle cose noiosissime nel caso della fondazione di un'associazione che deve essere senza fine di lucro tutte queste cose che è una vera e propria fondazione chiamando delle persone intorno a lui probabilmente confidava che io avessi tu di lui talenti organizzativi che assolutamente non è vero però insomma mi trovai a trovare il commercialista tirammo fuori dal commercialista le prime bozze di quello che era uno statuto di associazione cominciamo a discutere da correggere lui trovò il notaio da cui saremmo andati lungo la via entrò in questa specie di piccolo gruppetto di fondatori formato da lui e da me anche Raimondaricini e noi tre ci troviamo un giorno torrido di luglio da questo notaio un po' scacciato con le giacche che cadevano con quasi avete presente Schröder quel personaggio di Linus che ha le mosche che gli escono dalle tasche un po' così un po' stanco aveva una gran voglia di andare in vacanza invece a leggere tutto il testo di questa fondazione le clausole quello che si poteva fare quello che non si poteva fare io fui nominato tesoriere dote assolutamente non meritato in carico tra i peggiori che mi sarebbe potuto essere affidato e comunque ci mettemo cominciamo a raccogliere adesioni e Evanni era bravo era bravo perché ci pungolava era bravo perché non sapendo fare le cose si impegnava per imparare a farle bene che io trovo essere una dote bellissima il voler imparare sempre come si fanno le cose come si fanno le cose non fermarsi di fronte ai propri limiti ovessi la metà della sua volontà sarei felice quello che uno potrebbe pensare è che uno vuole fare un'associazione degli storici del design italiano per come dire nobilitare il proprio ruolo la propria professione ci mettiamo tutti insieme facciamo un bell'albo siamo più forti abbiamo più potere contrattuale ecco no nel caso di Evanni non era questo in realtà l'obiettivo certo gli interessava mettere insieme gli storici del design ma gli interessava perché nella sua testa aveva preso forma da tempo un'idea particolare di storia lui ha avuto il grande merito di essere laterale Vanni non era nel centro del focus della come dire della critica italiana del design per sua scelta e non per incapacità era più centrale Gregotti per i libri che scriveva di quanto non lo fosse Vanni pur essendo voi lo sapete benissimo Gregotti un importante intellettuale un architetto ma non uno storico del design to cure ce lo faceva forse il venerdì pomeriggio faceva un po' di design poi al resto della settimana faceva centri culturali in Portogallo non so cose di questo genere molto molto importanti non era centrale perché era critico ed essere critico voleva dire non essere armonico con la linea di pensiero dominante Vanni è quello che ha messo in crisi le letture Vanni è quello che ha messo in crisi non è vero a metterlo in crisi è stato il passare del tempo il finire delle stagioni il cambiare di eventi culturali cioè il fatto che il mondo sia andato avanti ma Vanni è quello che l'ha capito che lo ha stigmatizzato sintetizzato messo giù chiarito le visioni di Pevsner per dire dei maestri dei pionieri di questa idea di una storia che inizia un giorno quale giorno un gran dibattito e che poi passa come un fiume va avanti ed è la realizzazione di idee perché questo design nasce molto ideologico come io da studente ero convinto che dovesse essere bisognava rispettare le idee quello voleva dire realizzare il design bene Vanni dice di no Vanni è quello che dice i design ce ne siano molti i design li fanno anche le industrie non si è da soli e comincia a pensare a un'idea plurale una storia del design che è fatta di storie e l'idea che gli frullava in mente in quegli anni accelero perché comunque il tempo finisce era quella di pensare a un ambito di design studies non a un filone di pensiero che dice questo è il design ma invece tanti rivoli differenti che indagando aspetti diversi mettessero a fuoco tematiche che nel loro insieme definiscono l'ambito del del design e allora gli interessava moltissimo avere tanti storici del design intorno a cui sollecitare domande e vedere cosa pensano perché non è che fare questa come dire aver aperto e pensare al design come un ambito non come una linea dritta volesse dire perdere la rotta per Vanni ma anche per niente gli continuava a interessare molto la storia del design non è che non c'era più la storia del design perché si era sbriciolata lui voleva fare dei confronti tu sostieni che il design si re come dire prende senso nel mutarsi delle innovazioni tecnologiche bene hai questa linea di pensiero fai i tuoi studi vediamo dove arrivi e quanta corda hai da filare tu invece sostieni che è che so io un fenomeno sociale e che è legato che so ai cambiamenti del reddito come certi americani insomma diciamo del design aveva a che fare con il new deal con il nuovo benessere bene hai questo pensiero vuoi seguire questo filone storico seguilo e vediamo dove va a finire questo era il pensiero di Vanni e tante altre come dire letture possibili l'influenza delle scuole erano talmente tanti che ognuno può avere in qualche misura il suo però l'importante per Vanni era il confronto per cui per lui l'associazione non era un centro di potere era un vero e proprio la immaginava quanto meno come un centro di confronto onor di Vanni una grande dote che aveva non forse quella dell'organizzazione ma dell'organizzatore ma quella dell'essere paziente sì io alla prima assemblea dell'associazione quando vidi i venti delle varie correnti di chi voleva prendere fare in realtà trasformare l'associazione in un centro di potere lasciai la mia sedia e me ne andai a far qualcos'altro perché sono cose che non sono in grado né di governare né spesso di gestire o di sopportare Vanni bravissimo resistette pur con una leggera nausea perché aveva la volontà di arrivare da qualche parte a questo suo progetto e ha continuato a starvi dentro e a sollecitare a pungolare e anche a rintuzzare gli attacchi di chi baronalmente in qualche modo si stava cercando di approfittare della situazione ho 25 secondi e sono pochi vorrei soltanto ricordare l'ultima volta che ho visto Vanni che è stata in occasione della presentazione a Milano del manuale di design di cui si diceva prima poco meno di un anno prima della sua morte mi aveva chiesto di presentare il libro io fui cattivissimo quella sera perché in quel libro c'è a un certo punto una frase che cos'è il design e una risposta che dice il design è quello che fanno i designer che a me sembra dire una tautologia delle più belle ma che non dice assolutamente nulla per Vanni voleva dire qualche cosa insomma quello che aveva fatto di Dressler il primo designer che aveva fatto di Col quello che aveva istituzionalizzato le scuole di design quindi aveva un senso parlare di queste cose però detta così era veramente un po' troppo superficiale e io fui durissimo e spietato Vanni felice non gliene importò niente andammo a cena cenammo felicemente volevamo parlare noi due ma pazienza se unì a noi un'amica la Cristina Morozzi fiorentinissima che di lì rimase con noi fu una serata bellissima e però fu l'ultima io rimpianto di non aver più potuto sedermi con Vanni a mettere i puntini sulle i e a spiegare che non volevo essere così cattivo quella sera contro il libro ma che mi sembra che la risposta che cosa sia il design sia più complicato perché se tutto quello che fanno i suoi design designer forse design ce ne sarebbe anche troppo anche più di quello che francamente già c'è e che ci serve grazie a tutti e buona sera ringrazio sentitamente Enrico Morteo per questo appassionato intervento meritava Vanni sì certo meritatissimo ma che ci ha comunque aperto delle visioni che perlomeno io non avevo immagino anche altre persone non avevano e quindi questo ci arricchisce la memoria di Vanni quindi grazie ancora grazie a voi passo la parola a Giuseppe Furlanis che molti di voi conoscono che è stato il direttore dell'ISIA e appunto mi raccontava il primo direttore di Vanni come docente ed è stato presidente del consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale al ministero dell'università e della ricerca grazie questa serie di incontri come dice il titolo design da leggere era stata pensata con una serie di riflessioni critiche in base a testi che Vanni Pasca ha scritto ma in realtà io ho voluto fare una scelta diversa ho voluto scegliere di ricordare una lezione una lezione che è stata fatta qua a Firenze che è stata la lezione dedicata al Bauhaus e ho fatto questa scelta vediamo se riusciamo a farlo andare avanti ho voluto fare questa scelta per tre motivi principali allora prima di tutto perché è stata l'ultima lezione che io ho fatto insieme a Vanni Pasca e quindi mi faceva ovviamente molto piacere ricordarla a partire da quel momento il secondo motivo è perché quella lezione faceva parte di un ciclo di iniziative di cui vedete il manifesto lezioni di design che è stata poc'anzi anche citata è stata voluta e promossa da Self Habitat e Cultura e da Lisia e che ha rappresentato per Firenze un'occasione veramente unica si è potuto fare una serie di incontri per parlare di progettazione di design coinvolgendo designer architetti studenti e quindi mi è sembrato doveroso ricordare quell'evento in cui Vanni Pasca è stato veramente l'animatore colui che sceglieva i progetti che sceglieva i relatori che discuteva con i relatori e qualche volta polemizzava con i relatori perché poi faceva parte del suo modo anche di affrontare le cose e per un terzo motivo perché in qualche modo dà visibilità a quella che è stata forse a mio avviso l'esperienza più importante di Vanni Pasca che è quella dell'insegnante di essere un educatore di essere un insegnante che ha iniziato e ne ha prima ricordata un po' casualmente con difficoltà perché entrare nell'università italiana non è cosa semplice anche se uno è un bravo storico quindi con un po' di difficoltà ma che poi ha avuto un ruolo importante ha insegnato in molte scuole qui è stato regolato l'Isia ma è importantissima la sua esperienza come preside preside della facoltà di architettura di Palermo e molte altre esperienze addirittura avendo anche delle attività laterali è stato uno degli esperti dell'agenzia di valutazione L'Anvur addirittura è stato formatore dei valutatori dei valutatori dell'alta formazione artistica quindi ha avuto un importante ruolo quindi mi sembrava interessante partire da una lezione che ricordasse Vanni ma partendo proprio da una sua lezione quella lezione in realtà l'abbiamo fatta in due io affrontavo i temi della pedagogia lui aveva individuato come suo ambito quello di lavorare sul rapporto tra la scuola e le avanguardie ma chi era presente in quell'incontro e qui vediamo due immagini no non vediamo sì ecco vediamo due immagini di quella riunione chi era presente in quell'incontro avrà immediatamente capito che il suo intervento era per distruggere in qualche modo l'idea consolidata che si era fatta che era anche ancora presente in molti libri di storia del design ma molto presente ancora nelle scuole di design di quella che era l'esperienza del Bauhaus e probabilmente chi era presente si ricorda che è partito dando una grande enfasi a questo logo del Bauhaus no mettendo in evidenza quanto fosse lontano da quell'idea di funzionalismo di razionalismo no tanto è vero che lui se vi ricordate bene disse diceva è un logo piuttosto esoterico dove troviamo un po' di simboli più che connessi al design forse più connessi a ambiti diversi come si può definire potremmo definire massonici lui se non sbaglio usò proprio il termine massonico no e cosa voleva dimostrare sostanzialmente voleva dimostrare che quella storia che spesso ha un po' tenuto sotto tono questo logo l'ha tenuto un po' in ombra perché non rappresentava quell'idea del razionalismo del funzionalismo che in qualche modo gli storici da Giulio Carlo Sgan che è stato probabilmente il primo che ne ha dato visione in Italia altri hanno sostenuto e quindi raccontando questa storia cercando di individuare i personaggi che l'aveva caratterizzata e anche qua facendo una con una modalità di racconto che a mio avviso era tipica di Vanni ho voluto mettere questa immagine a posto per ricordarlo lui a un certo punto se vi ricordate mette in evidenza l'importante del ruolo propedeutico però non ha fatto vedere le cose di Albers di Molinaghi no è partito facendo vedere i disegni che facevano gli studenti di Iten in modo particolare poi utilizzava gli aneddoti perché trovava nell'aneddoto non soltanto l'elemento che serviva un po' a far divertire anche il pubblico perché lui era una persona molto ironica e sapeva far divertire quindi sapeva affrontare anche argomenti molto complessi permettendo al pubblico di divertirsi allora se voi poi chi era presente si ricorda forse che ha fatto vedere i disegni fatti dai studenti di Iten e dove Iten passava e gli dava dei grandi scappellotti agli studenti e dove tra l'altro Vani ci tenne a mettere in evidenza scappellotti perché allora era ancora ammesso lo scappellotto dello studente all'allievo e dove in qualche modo metteva in evidenza come diciamo questo studente nel tentativo di fare un bel disegno non aveva capito invece la cosa che era diciamo più importante dal punto di vista della lettura di quell'opera tanto è vero che lui a un certo punto diceva che Iten disse tu avresti dovuto metterti a piangere di fronte a quest'opera cioè il fatto che devi in qualche modo riuscire ad essere fortemente coinvolto nell'opera stessa e quindi questa sua narrazione porta a mettere in evidenza come questa esperienza legata al Bauhaus presentava una serie di contraddizioni qui c'è un drop del Bauhaus legata ad esempio all'immagine di Iten dove anche qui lui si era molto soffermato sull'immagine di Iten un po' da figura sacerdotale dove di ricultura alla stella cromatica lui gli ha fatto un discorso di riferimento che però era anche un sole forse vi ricordate ma dove Iten sceglie in fondo di avere una tonaca monacale di rasarsi i capelli perché perché non solo aveva aderito al movimento teosofico ma aveva aderito al mazzadismo e quindi a un movimento cultura orientale che lui individuava e centrale perché metteva insieme la capacità di relazione tra il corpo e lo spirito e quindi la sua idea di confronto di sviluppo di un sapere di competenze da parte degli studenti che diventavano di coinvolgimento di tutta la persona cioè di tutta l'essere l'individuo tant'è vero che lui faceva una serie di attività qui se ne vedono alcune immagini dove gli studenti erano invitati a fare delle gesticolazioni delle vocalizzazioni delle respirazioni e così via una di dati e la formazione del contratto ma cosa voleva perché sei così soffermato su questa visione del Bauhaus che poi lui ha sensibilmente sintetizzato diciamo in queste due aree il Bauhaus 1919 quando nasce manifesto di Fenninger con la famosa immagine grafica sicuramente di carattere espressionista con le tre stelle pittura scultura architettura di Fenninger e il manifesto poi invece del 1923 che poi è l'anno della grande mostra del Bauhaus per mettere in evidenza sostanzialmente che cosa non sto a indicarvi tutti diciamo le immagini gli oggetti rappresentati che sono straconosciute comunque la figura la sedia di Marcell Breuer cioè quello che noi conosciamo per la famosa sedia in tubolare d'acciaio che in questo caso un oggetto quasi che ricorda non so un oggetto etnico africano non lo richiamo sia un espressionista ma per far capire sostanzialmente che in fondo sono passati cosa sono passati soltanto quattro anni 1919 1923 anzi Iten arriva nel 1920 voi sapete che Gropius incontra Iten nel fine del 19 all'inizio degli anni 20 negli incontri organizzati dal Malmah e a un certo punto ha una forte personalità e Gropius quindi lo invita a partecipare all'esperienza del Bauhaus quindi arriva dopo ma in fondo la figura che è stata tra i nanti di questo periodo che è stata Iten in realtà è stato rimasto solo tre anni il Bauhaus ecco nonostante questo assume un ruolo rilevante che Vanni Pasca ha messo in evidenza nel suo intervento con un atteggiamento in contraposizione a quello di Gropius dice Gropius in fondo non è mai stato espressionista anche se alcuni libri di architettura quando incardiano le officine Fagos parlano di espressionismo ma sostanzialmente Gropius era un proto-razionalista si va a formare nello studio di Behrens lo studio in cui si è formato Miss Van der Rohe dove si è formato Le Corbusier a differenza dell'atteggiamento invece di Iten che è un atteggiamento che è totalmente lontano da questa visione razionalista non a caso cerca di riportare all'interno della cultura didattica alcuni principi della teosofia che innescano intrecciano l'aspetto diciamo più artistico quello di tipo spirituale e soprattutto è contrario a una visione della progettazione della didattica finalizzata alla professione del design cosa che invece per Gropius era un elemento fondamentale e Vanni ha messo in evidenza che cosa quindi che proprio questa contraddizione e per il motivo per cui lui l'è interessato a metterla in evidenza proprio questa contraddizione ha rappresentato l'elemento più importante del Bauhaus il suo intreccio culturale dove proprio nella differenza nel contrasto si è generata questa capacità innovativa non nel seguire una logica quasi conseguenziale che rispondeva a una linearità ecco da questo punto di vista l'ho voluto scegliere perché è un po' nello spirito di Vanni Pasca dove nel raccontare queste esperienze cerca di smontare una lettura la lettura che si è consolidata che in qualche modo abbiamo fatto e cercare di andare a cogliere quegli aspetti che rappresentano un modo diverso un intreccio un intreccio complesso nella complessità sta la capacità innovativa allora ci ha parlato ad esempio della didattica di Kandinsky che unisce la forma alla musica teniamo presente che anche Kandinsky anche esso arriva dall'ambito della teosofia aveva già scritto un libro che era lo spirituale nell'arte che quindi in qualche modo forse era la personaggio più vicino a Iten che però ha aperto una modalità totalmente diversa di approcciarsi all'arte e al design in quella visione di produzione estetica come arte totale che era già stata abbracciata anche da Wagner ma che ora diventa non più relativa al mondo dello spettacolo arriva al mondo del design della progettazione se Wagner aveva nella sintesi dello spettacolo dell'opera teatrale la sintesi di tutte le arti voi sapete che il Bauhaus l'aveva nell'architettura l'architettura come sintesi delle arti tutti voi vi ricordate sicuramente il cerchio del Bauhaus che aveva sostanzialmente all'interno l'architettura ma cerco di correre che sono andato molto lungo quindi non mi soffermo ha messo in evidenza l'importanza dei laboratori ma l'ha messo in evidenza rispetto a un obiettivo importante se voi vi ricordate a un certo punto lui si è fermato sulla mostra del 1923 e sulla lettera che ha scritto Gropius dove sostanzialmente che è stata quella che poi ha messo in crisi il suo rapporto con Iten e dove mette in vicino arte tecnica e definisce arte tecnica come una nuova unità e mettendo in evidenza come in questa sintesi stava la nuova idea del Bauhaus non tanto il rapporto forma-funzione razionalismo e così via ma in questa capacità di sintetizzare l'arte tecnica nelle sue diverse declinazioni nella mostra del 1923 che in questo caso io adesso ovviamente non abbiamo il tempo di soffermarci però viene a formarsi quella che è la nuova dimensione del Bauhaus che si apre a una visione che poi si avvicina prima a un'estetica che potremmo dire del razionalismo poi del funzionalismo qui vediamo le cose del corso propedeutico di Molinaggi perché voi sapete lui ci ha fatto vedere un po' l'escursus anche nel corso propedeutico dopo Iten abbiamo il corso assegnato a Molinaggi che però avrà il corso insieme a Albers con quindi uno spostamento da una visione espressionista a una visione costruttivista e si avvicina a quello che è l'aspetto legato un po' invece al funzionalismo ho voluto ho voluto mettere questa perché su questa aveva fatto anche una battuta a mio viso se non so se ve la ricordate che dice che questo oggetto che è emblematico dell'estetica del razionalismo peccato che c'è il rischio di far sì che poi i giovani i giovani bambini abbiano una forma triangolare e in ogni caso sotto l'aspetto della funzionalità qualche problema lo potrebbe dare era il suo modo sempre un po' burlesco di affrontare gli elementi però oltre all'aspetto qui vorrei proprio chiudo oltre che burlesco vorrei un po' concludere con questa immagine perché perché la ritrovo secondo me emblematica di una riflessione questa immagine che cos'è sono gli studenti del Bauhaus sapete il Bauhaus si sposta da Weimar si viene spostato di sede a un certo punto questi studenti in questa foto guardano lontano guardano verso un orizzonte e in qualche modo mi ha ricordato una considerazione che ho sentito fare da Vanni molte volte rispetto alla storia e soprattutto rispetto a che cosa debba essere la storia di design una scuola di design e lui spesso diceva che la storia non è mai guardare indietro la storia è guardare in avanti ma è guardare in avanti con un senso critico e questo mi sembra che sia il modo più intelligente di considerare la storia che ha la capacità sì di trovare nelle radici di ciò che è stato alcuni elementi di formazione di conoscenza di riflessione critica ma il suo compito è sempre quello di non guardare alle spalle ma guardare il futuro e forse non c'è un momento importante come quello di oggi di cercare di guardare il futuro perché soprattutto i giovani studenti sembra che non abbiano futuro invece il futuro è un elemento importante anche se siamo in un momento che qui il peso dalla contingenza che viviamo è pesante mi vengono in mente la lezione di Italo Calvino sulla leggerezza quando dice se voglio lasciare una testimonianza per i giovani per il nuovo millennio ecco vorrei lasciarle la leggerezza del poeta per avere la capacità di alzarsi sulla pesantezza del mondo e guardare un orizzonte più ampio ecco bisogna avere la capacità di innalzarsi sulla pesantezza del mondo per avere questo orizzonte più ampio ecco mi fa piacere pensare che Vanni Pasca abbia abituato a guardare l'orizzonte a guardare lontano al di là della pesantezza del mondo i suoi studenti grazie ringrazio Giuseppe Furlanis per questo suo approfondimento sulle modalità di di Vanni di affrontare di condividere temi sempre con mantenendo un aspetto critico rispetto a qualsiasi soggetto e riuscendo in questo a dare una maggiore ricchezza nella trasmissione appunto della conoscenza e invito Francesco Fumelli che è il direttore dell'ISIA e che ha condiviso con Vanni anche la l'impostazione delle ultime lezioni di design grazie 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 a tutti 15 minuti poi parte il missile ok allora sì io ho conosciuto Vanni molto più recentemente rispetto a chi mi ha preceduto e prima di cominciare a farvi vedere un paio di cose che ho raccolto visto che si parlava di un'analisi di testi io ho preso gli atti del convegno sulla didattica del design che si è tenuto all'ISIA di Firenze nel 2016 però volevo raccontarvi prima perché secondo me rafforza molte delle cose che sono state dette da chi mi ha preceduto sinora il mio primo incontro con Vanni Pasca io allora insegnavo linguaggi multimediali all'ISIA di Firenze quindi era una disciplina fondamentalmente tecnologica e ricordo che la prima volta che ho visto Vanni venne da me e mi disse ho bisogno di collegare il computer allora arrivò con un po' di mi chiamò in aula io da allora c'è stato questo rapporto per cui ogni volta che lui faceva lezioni c'era un connettore che non andava o un cavo che non funzionava e allora io ero diventato una sorta di come dire di revisore tecnico delle sue lezioni e da lì ci siamo conosciuti è stato il primo incontro con con Vanni Pasca che poi ha avuto modo ma questo ve lo racconterò in fondo di ricambiarmi il favore quando un giorno per gioco mi sono messo a scrivere un libro e allora mi ha restituito il favore riguardandomi un po' un po' alcuni testi allora quello che è quello che ho estratto un po' dal dal suo lungo intervento che è comunque pubblicato nel negli atti di questo convegno serve un po' per rafforzare quella che secondo me era la la sua filosofia io ho capito parlando con lui anche ricordo i tavoli nei quali si organizzavano o si cercava di capire come portare avanti le lezioni in design e ho capito che la sua figura era una figura di che aveva una grande capacità di mettere insieme posizioni diverse cioè lui riusciva sempre a mediare e a costruire un un progetto a partire da tutta una serie di situazioni che potevano talvolta essere anche in contraddizione o o comunque confliggenti in questo caso ad esempio quello che ho tratto insomma da questi atti era il suo prendere atto da un lato di un proliferare delle scuole di design chiaramente il convegno era si trattava di didattica e quindi l'oggetto era la didattica del design questa molteplicità di scuole di design nelle quali lui ha insegnato poi ne ha avuta anche una sua come sapete quindi ha collaborato con con molte scuole anche fuori dal territorio italiano quello che lui sosteneva era non cercare un modello unico per fare didattica del design ma fare didattica a partire da una serie di posizioni anche culturali assolutamente diverse il design è una pratica progettuale sorretta dalla riflessione teorica e culturale questa è una parte che sicuramente è molto interessante e rispecchia tantissimo quello che era la sua posizione effettiva la sua posizione che portava esattamente a una filosofia di mediazione tra posizioni diverse quindi mai contrapposizione è sempre un tentativo di metterle insieme il rischio era quello di formare appunto una generazione di designer privi di consapevolezza storica questa è un'altra questione con la quale dopo quando vi dirò in due secondi la questione del libro si approfondisce soprattutto forse per il fatto che con me aveva questo avuto questo diciamo questo primo rapporto molto tecnico ci siamo trovati spesso a discutere di quanto il design debba essere una somma di operazioni tecniche finalizzate a portare avanti un progetto e di quanto tutto questo debba esserci perché non può non esserci ovviamente però di quanto tutto questo debba essere come dire circondato da una consapevolezza storica anche del contesto nel quale si si lavora questo devo dire forse è la cosa che ricordo più di Vanni Pasca questo fatto di poi nei dialoghi successivi di prendere atto delle cose ma volerle sempre riportare rinquadrare dentro un contesto storico e culturale per cui non ci sono operazioni estemporanee se ci sono anche paradossalmente la loro estemporaneità è comunque ricondotta dentro un ragionamento che riporta a contesti precisi storici e culturali questa credo che sia una delle cose più importanti che ricordo del suo pensiero questo è il volume di cui abbiamo parlato e questo è un articolo che ho trovato su una rivista portoghese di un designer portoghese ve lo faccio vedere ingrandito perché Pedro Franco è un progettista portoghese che scrive in questa rivista ho infilato le due ho infilato l'immagine della rivista in un motore di traduzione per cercare di capire che cosa avesse detto e mi trovo a condividere esattamente quello che dice lui quando dice mi sento a mio agio a scrivere di Vanni dopo tutto è stato uno dei più grandi sostenitori della mia carriera di design una convivenza intensa e profonda in cui ho preso un decimo della saggezza di questo maestro del design la principale era conoscere la teoria e la storia per applicarla alla pratica è così che mi ha insegnato i percorsi per fondare la mia industria la maggior parte delle persone esiste e basta Vanni ha vissuto molto lascia un'eredità unica immortalata nei suoi innumerevoli libri e qui cita un libro nel quale Vanni a sua volta riporta dei lavori di questo progettista allora questo è secondo me una testimonianza che probabilmente quello che io ho sentito e che anche chi mi ha preceduto ha riportato è esattamente vero evidentemente era nel suo carattere questo voler supportare questo essere di aiuto torno a dire quando ho scritto poi questo libretto sulla storia non sulla storia ma insomma sulla disciplina del basic design gli ho sottoposto alcune parti nelle quali avevo alcune incertezze e lui a quel punto mi disse vedi ora ho modo di restituirti il favore che mi hai fatto montandomi il computer quindi cioè si ricordava anche se era passato veramente era passato un po' di tempo e devo dire mi è stato molto di supporto soprattutto sulla parte della gestione dei diritti delle immagini dove io non ne sapevo molto invece mi ricordo che si fece mi dette una mano un giorno in Isia a capire come secondo lui avrei dovuto fare per richiedere l'utilizzo delle immagini di alcuni oggetti che volevo appunto inserire nel libro quindi una figura umanamente sempre disponibile sempre pronto a supportarti sempre pronto a darti una mano e a livello culturale quindi la cosa piacevolissima che ricordo della collaborazione con lui è stata proprio quella di mediare cioè di riuscire a mettere insieme posizioni diverse inquadrarle e avere quindi la capacità di restituire un qualcosa che assumeva un senso dalla somma di vari elementi questo è quella che posso dare io come testimonianza rispetto alla figura di Vanni che comunque lo dico chi lo conosce lo sa non è strettamente connesso diciamo alla sua attività né di storico né di docente ma era veramente una persona con la quale era piacevole spendere del tempo ecco quindi andarci a cena c'è qui Pierluisi Bemporad Furlani in se stesso cioè abbiamo io poco devo dire perché purtroppo insomma poi è scomparso però quel poco tempo con cui che ho potuto spendere con lui lo ricordo ancora con veramente con gioia persona piacevolissima culturalmente assolutamente importante e non sono due cose che sempre vanno insieme ecco questa credo sia la cosa importante vi ringrazio dato il mio ruolo cambio subito le slide visto che sono in te grazie grazie anche per questo ringrazio Francesco Fumelli e insomma si sta disegnando un ritratto un dipinto molto coerente di Vanni con molte sfaccettature ma che ha appunto questa coerenza e sì è vero cioè Vanni era molto piacevole sempre e aveva questa qualità che parlava e diceva delle cose che è una qualità che non hanno tutti adesso passo appunto la parola Valentina Genzini che è anche padrona di casa qui perché è direttrice delle murate Art District si è spento grazie e quindi sentiamo il suo la sua visione di Vanni attraverso le sue parole grazie Valentina grazie a voi allora io ho deciso di raccontare lo sguardo di Vanni su una donna Gaia Olenti a cui ha dedicato una mostra alla triennale di Milano una decina di anni fa e qui vedete il catalogo e tra l'altro Vanni ha dedicato attenzione qui con noi sempre a MAD appunto le murate Art District a un'altra donna Charlotte Perriand è stata ricordata da poco e vorrei iniziare con un ricordo un po' buffo di cui parlavamo prima con Pierluigi Bemporad che quando io lo conoscevo da poco allora Vanni avevamo fatto insieme la mostra di Vitra e all'ex tribunale dietro Palazzo Vecchio e lui arrivò ed era molto sì grazie ed era molto irritato che dovesse iniziare la riunione la console francese l'amica comune Isabelle Males che è sempre stata squisita e disse guarda Vanni facciamo i saluti istituzionali Isabelle e poi ti lasciamo subito la parola e lo lasciai qui mentre con Isabella accoglievamo gli altri ospiti piccato e arrabbiato di non poter iniziare lui subito a parlare perché lui doveva tenere banco e quindi non capiva perché ci fossero queste lungaggini con Pierluigi che cercava di calmarlo e quindi allora lo conoscevo relativamente poco e trovai buffo questo piccarsi di un uomo così colto e così importante poi conoscendolo tu sei tien nel senso che lui aveva questo carattere con queste punte anche di di rascibilità buonaria però sempre simpatica e sempre affabili che non lasciava mai il segno di una rottura di rapporto ma anzi lo consolidava se possibile e quindi qualche sguardo con le foto appunto di Mauro Cenci di quell'occasione mi faceva piacere portarle perché fu un'occasione una giornata di studio assolutamente interessante la mostra era super affascinante questa appunto piccola costruzione veniva riprodotta per la prima volta e devo dire che appassionò moltissimo anche i giovani e aveva anche la piacevolezza come dire del tatto e dello sguardo che si poggia sulle cose per cui ogni visione non era non era scontata quando Vanni guarda alla Gaia Olenti naturalmente considera il tema femminile che lei stessa considerava lei sottolineava sempre sono architetto e sono donna naturalmente allora lei diceva architetto e diceva come mi dovrei chiamare architetta architettessa questo lo sappiamo noi e naturalmente i tempi erano diversi da quelli di oggi in cui si sta riformulando anche il vocabolario di genere quello che Vanni fa nello sguardo è un tema di metodo nello sguardo sul lavoro di questa donna eccezionale credo che a lui interessasse perché Gaia Olenti affronta tutto dalle riviste al design l'architettura il setting di esposizione la grafica e lui anche qui fa un'analisi di contesto come dicevamo prima molto interessante naturalmente la inquadra immediatamente nel magistero di Ernesto Nathan Roger ne ricorda subito non solo il lavoro con lui a Casa Bella Continuità che era appunto la rivista di cui lei era redattrice ma il fatto che lei facesse anche la grafica per le copertine quindi questo elemento della grafica che è importante lei del resto aveva una passione estetica che si declina appunto anche nei musei e ricordo solo per gli studenti perdonatemelo però lei naturalmente parte con il museo d'Orsay a cui attende dall'80 all'86 perché le valse della legione d'onore e questo lo ricorda Vanni perché naturalmente da lì arrivano le grandi committenze internazionali è stato un campo quello del d'Orsay che poi fu molto molto discussa come operazione anche dai museologi non solo dai museografi architetti però poi le valse anche il museo d'arte moderna al Pompidou perché ha disegnato quello gli spazi decisamente difficili peraltro da disegnare all'interno del Pompidou il Quirinale a Roma Palazzo Grazi sia Venezia il museo d'arte catalana a Barcellona il museo d'arte contemporanea Istan Bolfino lo ricorda Vanni al museo di arte asiatica di San Francisco che è il più recente questo disegnare gli ambienti lavorare sulle mostre Palazzo Grassi poi fare la mostra Latrinale nel 64 MoMA nel 72 Guggenheim nel 94 ha un'attenzione a 360 gradi non solo sulla struttura sul set design l'interior design ma tutti gli arredi e questo è un elemento che lei riprende dalla grande scuola che aveva guardato appunto anche negli anni 20 lui cita tra l'altro sulla Trennale del 64 volevo citarvi le sue parole perché dice la Trennale del 64 è dedicata al tempo libero alle figure femminili in corsa di Pablo Picasso eccole qua queste figure dice diventano metafora di una trasformazione epocale degli stili di vita questo aspetto del suo lavoro va sottolineato perché il modo di fare design di Gaia Olenti è sempre stato in felice rapporto con il rinnovamento culturale degli spazi interni e del modo di viverli non si tratta solo di un'attività progettuale che si esercita su diversi territori si tratta di una precisa idea di progetto è questa concezione del progetto che spiega e rende possibile la sua passione per il teatro e per la scenografia anche l'allestimento di una mostra importantissima iconica per il design come The New Domestic Landscape Italy The New Domestic Landscape del 72 al MoMA vedete che è proprio un setting preciso quasi scenografico e lei è bello anche nei suoi disegni come contempli la visione del museo anche come un'opera scenografica qui vediamo la lunga collaborazione che lei ha avuto con Ronconi del resto si ricorda il tema della collaborazione con lui anche a Prato con laboratorio di progettazione teatrale e quindi lei ha lavorato a decine di opere e anche qualche prosa e poi arriva il rapporto corporate quindi è importante il rapporto con le aziende importantissimo e anche qui forse ritroviamo una consonanza con lo sguardo e la pratica di Vanni lui sottolinea quanto per esempio il lancio della Fiat nel 68 guardasse alla biennale precedente naturalmente questo lo vediamo tutti della pop art che si tenne nel 64 quindi c'è proprio una come dire una rispondenza di modi e di gusto rispetto a un gusto che era diventato dominante in scia alla biennale ma c'è anche un progettare ambienti con elementi corrispondenti questo è lo showroom Olivetti di Parigi in questa foto non è molto netto ma era bellissimo l'impegno del colore di questo corpo centrale si vede meglio la foto in bianco e nero ma è meno suggestiva dal punto di vista del colore e qui vediamo la sua pipistrello così come e questo appunto è lo showroom a Parigi mentre quello per Buenos Aires lui disegna King Sun eccole qua che sono determinanti quindi anche lì andare a pensare a un'immagine appunto corporate aziendale a un negozio uno showroom quindi la parte commerciale e disegnare di nuovo ambienti interior e arredi così come c'è un gioco continuo un rimando continuo all'arte in generale tutti i tubolari d'acciaio e così locus solus eccetera guardano la pop art la pop art di Joe Tilson quindi c'è questa rispondenza questa conoscenza profonda dell'arte e delle linee che vengono utilizzate come dell'arte abbiamo visto già pipistrello nel suo ambiente ma sappiamo che guarda all'elemento zoomorfo e anche a Liberty quindi alle lampade che rispondono a una tradizione molto importante mitteleuropea e questo corrispondere elementi d'arredo con il contesto dice Vanni rimanda alla tradizione viennese Gesamtkunstwerk cioè l'opera d'arte totale che andava a cogliere tutti gli elementi ma anche rispondenze naturalmente con l'arte fosse pop fosse appunto più di natura programmatica cinetica eccetera e senz'altro affascinata dai diversi stili di vita per esempio Parola a cui ha lavorato con Piero Castiglioni per Fontana Arte di cui tra l'altro è stata direttrice dal 79 al 96 è una lampada che aggiunge elementi funzionali fa notare Vanni l'abilità di questa lampada di consentire una luce morbida soffusa sul tavolo invece di illuminare fortemente l'ambiente circostante cioè il muro senza dare il fastidio di una luce quindi la funzionalità estrema insieme a un'eleganza che dialoga con la storia guardando a Willem Wagenfeld nel 23 e così via la collaborazione con Fontana la produzione Knoll e la produzione Venini questa è un'altra produzione importantissima dalle forme rotonde un altro elemento che viene fuori dall'analisi di Vanni è questo amore di Gaia Olenti per le forme rotonde che vengono perseguite come grande valore e le forme rotonde accompagnano i tavoli di cristallo i tavoli di vetro insomma quadrati questi tavoli con ruote per fontanarte uno nell'80 con le ruote piccole e poi le ruote che simulano e ricordano appunto il Dada e le operazioni di Duchamp i rei di me di Duchamp nel 93 ecco credo che questo tipo di gioco di tornare anche sui propri lavori di arrotondare anche quello che appunto era quadrato la inserisca e Vanni lo dice bene all'interno di un mondo che è fatto di uno sguardo unico e omnicomprensivo interdisciplinare e questo credo che lo affascinasse molto di Gaia Olenti perché credo ci trovasse una rispondenza di metodo oltre che di sensibilità ecco e con questo lascio la parola a voi grazie Valentina per questa testimonianza che ha dato attraverso appunto questa questa donna così poliedrica e capace e che rappresenta come Charlotte Perriand delle donne che forse non sono abbastanza conosciute e valorizzate per quanto hanno dato e per quanto sono riuscite a fare con il loro talento e quindi grazie grazie ancora restano monadi secondo me dovremmo far sì e questo invito i professori e i giovani che non restino monadi cioè che siano fari in una costellazione più vasta di molte altre donne che hanno avuto semplicemente meno visibilità ma magari hanno fatto altrettanto quindi è una sfida è una sfida che se il Fabitat Cultura si è presa molte volte quella di guardare anche al genere femminile noi l'abbiamo sempre accolta molto volentieri e che secondo me va perseguita e studiata perché avendo avuto le donne lo ha dimostrato la direttrice della biennale che si sta concludendo adesso molte meno possibilità degli uomini quando poi andiamo a fare ricerche a scavare riusciamo a fare una biennale che per la prima volta rovescia i numeri per cui abbiamo il 5% di uomini e il 95% di donne non perché è la biennale delle donne come dice lei ma solo per riportare in pari quella che è stata la biennale ordinaria che aveva sempre il 10% massimo di presenza femminile e il resto maschile quindi gli artisti come gli architetti i designer ci sono sia uomini che donne credo che sia un valore alla storia anche al metodo della storia e della ricerca andare a recuperare tante figure che hanno avuto meno visibilità per ragioni puramente storiche che anche nel Bauhaus c'erano sebbene il Bauhaus sia stato il contesto di minor discriminazione perché come abbiamo visto c'erano già studentesse architette donne sappiamo dalle corrispondenze di lettere che molti progetti sono stati trattenuti dai colleghi maschi quindi lo sappiamo lo abbiamo studiato e quindi ricordiamocelo condivido pienamente condivido pienamente e ricordo una lezione di Vanni proprio su questo sulle donne del Bauhaus che fu molto interessante come ricordo che appunto una delle fondatrici del dipartimento di ricerca per la costruzione di un design tridimensionale collegato ai computer sia stata negli anni 50 una donna di cui nome è misconosciuto quindi ce ne sono molte di donne c'è molto lavoro da fare ma lo possiamo fare e Vanni in questo comunque ha già aperto una pista anche volentieri rispetto a questo cosa che non ho detto nella lezione che lui faceva il Bauhaus ma mise molto appunto questo aspetto dicendo che in apparenza il Bauhaus è stata in assoluto la scuola più democratica e più attenta a evitare una discriminazione tra uomini e donne peccato che poi le donne le mettevano tutte in tessitura cioè quindi in realtà e non solo ma il tentativo di non farsi mettere se poi abbiamo avuto dei casi eccezionali no? però il tentativo era veramente difficile tanto è vero che qualche anno fa è uscito un libro piuttosto leggero ma secondo me abbastanza divertente che è La ragazza del Bauhaus che chi lo legge è questa ragazza che in tutti i modi voleva riuscire a fare architettura ma non c'è stato niente da fare laboratorio e tessuti per tutte le donne grazie bene adesso ecco chiamerei altre due donne cioè Dora Lisce e Elisabetta Nardinocchi che porteranno la loro testimonianza della loro collaborazione con con Vanni potete venire entrambe e poi inizia Elisabetta Nardinocchi che è la direttrice del museo Orn che ha ospitato delle lezioni di design e quindi ci porta la sua testimonianza della del rapporto con Vanni in queste occasioni grazie grazie ci siamo eccomi ecco ringrazio no bene sì ecco ringrazio per la Gianne Falvo appunto presidente di Adi Toscana per questo invito che mi appunto dà l'opportunità di trasmettervi di raccontarvi quella che è stata la mia esperienza breve esperienza tutto sommato rispetto a tanti di voi qui presenti e quello che è un sentito appunto ricordo di Vanni Pasca appunto ho conosciuto Vanni tramite il comune amico Pierluigi Bemporad negli anni in cui nasceva Self Habitat Cultura associazione che già con Vanni aveva organizzato le prime lezioni di storia del design così come è stato detto da altri relatori in questa associazione sono stata chiamata come direttrice del museo ORN e all'interno del comitato scientifico dove lì ho ritrovato tanti cari amici con i quali avevo condiviso anni di esperienze prima fra tutti la mia maestra Dora Lisha Bemporad e dove poi ho potuto stringere nuovi e forti legami con altri studiosi e tra questi anche con Vanni doveva essere appunto il 2011 2012 ma questi primi contatti furono sporadici per quanto già mi fosse apparsa chiara fin da subito la sua forte personalità ma io mi occupavo di arte antica lui di design e i campi di indagine mi apparivano decisamente lontani la svolta ci fu nel 2013 in quell'anno avevamo organizzato presso il museo ORN una mostra sul personaggio Herbert ORN intitolata ORN and friends si indagava ORN non solo come collezionista il grande collezionista ovviamente che conoscete tutti voi per la straordinaria raccolta d'arte che ha lasciato allo stato italiano che conta lo ricordo più di 6.000 opere ma anche per il suo ruolo appunto il ruolo stesso di ORN all'interno del movimento delle arts and crafts fu così che sempre grazie a Pierluigi e a Dora Vanni venne a visitare la mostra e il nostro museo a quel punto mi fu chiaro quante cose ci potevano essere in comune tra i suoi interessi e i miei e quanto avrei potuto imparare da lui si esponevano in quell'occasione molte opere grafiche di ORN fotografie di arredi e stoffe carte da parati da lui realizzate al tempo in cui operava all'interno dello studio dell'architetto Arthur McMardo si indacava poi sulla sua passione per le arti tipografiche grazie alla quale aveva ideato per case editrici inglesi e americane una serie di caratteri tipografici ispirati alla cultura rinascimentale in particolare gli occhi di Vanni e me lo ricordo perfettamente si illuminarono nel momento in cui accennai alla collaborazione di ORN con la Kelmscott Press fondata da William Morris su quest'ultima ne sapeva ovviamente molto molto più di me sicuramente ma la cosa che mi stupì fu la sua capacità di istituire subito un legame forte tra questa attività di Herbert Orn e la sua collezione di arte antica spaziava con estrema libertà riallacciando i figli soltili che legavano queste esperienze di fino ottocento con la cultura del rinascimento fiorentino fu così che sempre all'interno delle lezioni di design di self promosse appunto da self habitat cultura in collaborazione come abbiamo già detto unisia organizziamo proprio presso il museo Orn una conferenza a più voci sul nostro personaggio le art and craft e su come queste esperienze avessero avuto una significativa ricaduta sul design del novecento basterebbe questo per dire come lo sguardo di Vanni sulle cose e sulla storia abbia sempre avuto la capacità di mostrarci relazioni inusitate rapporti tra fatti lontani nel tempo e nello spazio insomma di proporre uno sguardo nuovo questo sguardo che tanti di voi hanno citato uno sguardo nuovo e stimolante su cose e mi riferisco appunto in questo caso a Herbert Thor nella sua collezione che ovviamente studiavo da tempo ma che mai avevo osservato in quella precisa prospettiva da allora le riunioni del comitato scientifico di self-habitat infamezzate tra scene incontri formali informali con grazie sempre all'infaticabile Pierluigi sono sempre più diventate per me stimoli per riflettere oltre lo scontato questo mi è assolutamente chiaro ogni espressione di Vanni non era mai scontata era un maestro in quello che si dice pensiero laterale e questa sua capacità di cercare punti di vista alternativi ad un problema era insito nella sua personalità spero appunto che Vanni sia riuscito a trasmettere a me e a chi lo ha frequentato oltre alle sue conoscenze e alla sua insaziabile curiosità citata è già ampiamente anche un poco di questa capacità grazie 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 Elisabetta per questa testimonianza che convalida però con un altro scenario quello che è già stato detto appunto su Vanni e ci porta anche un punto di vista molto particolare molto singolare grazie ancora e do il benvenuto a Doralisha Bemporad già citata storica dell'arte che ha condiviso con Vanni la gestazione di molte di questi incontri grazie io mi sento un po' un pesce fuor d'acqua perché io sono una storica dell'arte e so dell'antipatia che hanno spesso gli storici del design o almeno la diffidenza verso gli storici dell'arte a volte anche ricambiata però devo dire e quindi quando Vanni è entrato per la prima volta nella nostra vita io mi sentì molto intimidita intanto era grande quindi questo riempiva tutta la casa poi io ero la moglie di Pierluisi Bemporad quindi moglie storica dell'arte quindi una tragedia però a poco a poco ci siamo conosciuti lui è venuto spesso a casa nostra e soprattutto ho capito nella già citata lezione sul Bauhaus che lui non aveva solamente una conoscenza settoriale del design ma aveva una visione amplissima compresa la storia dell'arte quando veniva a casa nostra mi raccontava di tutte le mostre che aveva visto nell'intervallo di tempo no parlo molto meno e quindi era erano degli incontri molto molto felici e riusciva a valorizzare appunto anche dei temi e desueti la mia materia è storia delle arti minori questo l'aveva un pochino irritato perché non aveva capito bene che cosa io insegnasse che cosa studiassi però in discussioni e anche in incontri lunghissimi che abbiamo avuto ha inquadrato la materia che io studio quello quindi non dico che avesse stima di me però un minimo di rispetto lo aveva e questo no no è vero perché un come ora ci si arriva e mi hai fatto perdere il filo sì perché dicevo cioè lui in me trovava una curiosità che lui apprezzava molto infatti come ha detto anche Elisabetta Nardinocchi lui era una persona curiosissima e poi era quello che intimidiva un'insofferenza totale per la stupidità cioè veramente a volte si assisteva a situazioni abbastanza imbarazzanti però nonostante questo il nostro sodalizio che è cominciato almeno 12 anni fa è continuato tranquillo che è strano per il carattere di Vanni mi dispiace non sono una persona che può illustrarvi il diciamo l'indirizzo scientifico di Vanni ma mi voglio fermare su alcuni ricordi personali tra cui appunto come diceva la mia cucina come diceva Claudio Lopez ha apprezzato la mia cucina quando ha visto che la mia cucina era un oicos della driade è rimasto folgorato e ha detto che bello come la tenete bene lo dirò a Antonia Stori e poi è venuta fuori la cucina io ero molto in soggezione anche in quel caso perché dico questo che è abituato a frequentare tutte le case più importanti i ristoranti più importanti per cui mi ero ingegnata di fare un menù sopraffino poi ho scoperto che le cose che gli piacevano di più che io cucinavo era la pasta al pomodoro le polpette e i fagioli e con ciò io era a posto e tutte le volte che veniva il menù era questo però c'erano anche altre situazioni conviviali che ricordo molto piacevolmente perché andavamo sempre a questa pizzeria amalfitana dove il gestore era un napoletano Gennaro non a caso e lui ritrovava in questo colloquio con Gennaro le sue origini napoletane e quindi questa ripetersi continuamente del una specie di come dire di di rito che si ripeteva ogni volta che lui veniva era diventato un'abitudine vieneva anni allora si fa questo ma era già tutto prestabilito e devo dire io lo ricordo con molto affetto a me ha insegnato moltissimo chiaramente ma soprattutto mi ha dato la sensazione di una persona di grandissimo livello di grandissima qualità ma che era anche capace di avvicinarsi alle persone meno edotte come ero io e quindi non ero solo la moglie di Pierluigi Vemporan ringrazio Dora Alicia Vemporada per questa testimonianza è acceso sì e beh abbiamo una rappresentazione mi sembra tutto tondo di di Vanni e vorrei sapere se ci sono anche altri interventi delle domande qualcuno che vuole intervenire forse sembra che questa ricchezza di appunto racconti e anche la statura del personaggio che ne emerge abbia così riempito le menti e forse anche i cuori insomma delle persone che sono qui per cui volevi parlare? vieni allora Biagio Sisotti che anche lui ha condiviso molti degli incontri con Vanni grazie no solo una cosa brevissima non voglio dilungarmi è stato già detto moltissimo ho scoperto anche che gli piacevano i fagioli guarda questa è una scoperta che cosa legge no l'unico volevo solo aggiungere una cosa su su Vanni lui noi lo conosciamo da molto tempo insomma da scuola dalle lezioni di design da vari rapporti mi volevo collegare un po' a quanto ha detto Enrico Morteo su Vanni sulla conclusione che è molto secca su cos'è il design il design è quella cosa che fanno i designer ecco io credo che invece lì Vanni non ha colto bene perché secondo me il design specialmente il design italiano è una cosa molto più complessa perché è fatta di molte cose ed è fatta il design italiano è fatta anche dagli storici del design italiano cioè fanno parte sono degli elementi fondamentali per la storia del design non sono una cosa a parte non sono dei narratori solo di quello che fanno altri quindi sono quelli che sanciscono la storia del design italiano fa parte di queste figure cioè nel senso Vanni fa parte della storia del design secondo me prima o poi qualcuno scriverà i libri storia del design dovrebbero parlare sì dei designer e dei pezzi del designer ma anche degli storici che hanno raccontato il design ma anche degli industriali che hanno fatto il design cioè il design italiano è una cosa un po' complessa e Vanni a mio avviso era una figura chiave all'interno della storia del design italiano specialmente del Made in Italy quando quella cosa che si dice Made in Italy Made in Italy è una cosa complessa una cosa fatta da più persone fatta dalle riviste dagli storici dagli industriali dai designer e fondamentale Morteo faceva riferimento a questa pluralità di Vanni che accettava figure alternative che uno non riusciva a dire ma come scrivi un libro sul minimalismo perché era stato così in contatto con Cappellini e poi visto i tuoi rapporti accetti Boris Sib perché è totalmente un'altra cosa e sei all'interno di Driade e racconti questa storia importante che è stata Driade e per esempio quell'aspetto quindi era praticamente uno che sottolineava quello che succedeva era uno che collaborava alla costruzione del design quindi ecco questa è la cosa che volevo aggiungere anche io vorrei aggiungere una cosa allora da un lato che oggi ne abbiamo parlato poco però Vanni si è occupato anche di didattica del design quindi sarebbe stato interessante anche capire cosa e come riteneva dovesse essere appunto esercitato questo questo mestiere magari ci diamo un nuovo appuntamento con chi crede di poter dare un contributo in questo senso e dall'altro siccome prima mi sono autocensurata perché non funzionava il timing e non volevo rubare tempo ma mi è stato detto che sono stata molto stringata voglio leggervi due parole proprio una frase di Vanni che mi ha colpito tantissimo nello sguardo su Gaio Lenti perché ne tratta questo aspetto su cui siamo tornati più volte appunto plurimo espanso e complesso la complessità di guardare il reale di ogni suo aspetto del disegnare gli ambienti del progetto degli ambienti e lo fa con parole a mio avviso di grandissima sensibilità che disegnano la sua immaginazione lui scrive e lo scrive di lei potrebbe valere per altri tra l'urbanistica il suo desiderio più volte anche giocosamente espresso vorrei progettare una città e l'arredamento tra queste due polarità l'attività di Gaio Lenti ha spaziato sia come si è detto con l'architettura sia con il design in questo il controllo razionale al quale si è accennato si esercita su una trasformazione degli spazi in percorsi narrativi la trasformazione degli spazi in percorsi narrativi in cui gli oggetti si collocano come componenti di un racconto e in cui la capacità di combinare rappresentazione e comunicazione si affida alla definizione di elementi di forte intensità comunicativa dichiarate metafore dei contenuti rappresentati ecco ho trovato che in questo Vanni abbia condensato un senso proprio di lettura del racconto la capacità immaginifica che si fa narrativa e che quindi contempla ogni aspetto della semantica del progetto ecco questa era una bella frase che mi ero tirata indietro da leggervi per non rubare troppo tempo ma forse diciamo che segna bene anche il metodo con cui lui osservava e quindi poteva poi analizzare anche grandi architettiche grandi designer grazie grazie Valentina grazie a Biagio Cisotti e Valentina Gensini questa mi sembra sì una degna chiusura e si certo ritengo doveroso rispondere a Cisotti anche in relazione a quello che è stato detto da Morteo perché io sono convinto conoscendo Vanni che il dire che il design ciò che fanno i design era un po' nel suo spirito cioè è una battuta di quelle battute che lui spesso faceva tra l'altro c'è un articolo che potete trovare penso che sia anche in internet un suo articolo su Lotus del 2008 o del 2009 comunque lo trovate dove parla del design partendo da una riflessione che ha fatto eco e gregotti che in qualche modo mettono in evidenza che il design è finito e lui dice no il design è tutt'altro che finito ma il design è espanso il design sta diventando qualcosa di profondamente diverso perché ha dilatato i propri confini ed è quindi proprio l'opposto dal design che fanno ciò che fanno i designer ma il design oggi rappresenta una complessità sempre maggiore dove forse il design oggi è sempre più l'insieme di competenze diverse di specializzazioni diverse e lui mi sembra che questa cosa l'avesse ben colta ma era un po' nel suo spirito se voi sentite l'intervista che le viene fatta sul suo compasso d'oro alla carriera vi invito a vederla è nello stesso spirito un po' non dare importanza non darsi importanza ma però alla fine saper cogliere questi aspetti anche perché lui aveva un elemento che caratterizzava soprattutto quando interveniva l'aspetto della provocazione per obbligare le persone a riflettere e stare attenti ho presente esempio anche questo penso che sia in internet quando è stato invitato al festival della mente e dove a un certo punto già il titolo che sceglie è indicativo del suo atteggiamento provocatorio il design oggi etica estetica o forse cosmetica ecco già detto questo dà l'idea di cosa volesse dire e debutta dicendo chiariamo subito una cosa io sono a favore della globalizzazione creando uno scombuglio scompiglio in tutti perché chiaramente a me ha riattivato tutti li ha obbligato tutti a stare attenti rispetto a una tematica di in realtà cosa oggi come oggi può essere pensato il design di fronte a un mondo globale gestito dalla finanza internazionale e così via e quindi io l'ho letta così cioè quindi il design e ciò che fanno i designer l'ho vista in un suo modo per in modo un po' ironico per forse per qualche modo dare forse anche un po' meno importanza questa enfasi è stato detto anche il made in italy eccessivamente enfasi oggi ne abbiamo anche un ministero forse è un po' eccessivo grazie quindi abbiamo anche disegnato questo gusto per la provocazione di Vanni che serviva appunto anche per risvegliare gli altri anch'io condivido che forse questa affermazione fosse in questi termini ma condivido anche quanto diceva Biacio Sisotti che anche gli storici del design fanno il design perché ci danno modo di avere una visione critica di quello che sta accadendo e infatti appunto questa sua ultima definizione di design espanso era perfettamente calzante con i tempi che stiamo vivendo e con quanto è stato detto cioè con questa sua capacità con questa sua statura molto alta da un punto di vista culturale e questa intelligenza così libera questa capacità di saper mettere insieme mondi diversi e ci è stato raccontato e dimostrato in modo così ricco quindi ringrazio ancora tutti è stato veramente un piacere come volevamo che fosse e vi ringraziamo di essere stati qui con noi e ci vediamo alla prossima occasione che tratterà di design grazie ancora a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.